E' tutto questo, anche questo ambito, in questa situazione, l'Ada, sull'Ada. Teresa ha acceso il conforto politico anche sul PNRR. Intanto la camera ha votato la fiducia. Al detesto superbono si riferirà in casa. Alessandro Gatto, l'Ivvete. Sì, fiducia che è arrivata con un gesto di passaggio. Sì, no, lo facciamo, perché uno lo lascia in macchina e l'altro del motore. Lo può fare? Sì. E' oggi poi le tratte tra Lega e Anna, che lo diamo tutto al senso per il Napoli. Adesso l'affezione con l'Europa, ma è anche la figura sul cammino del PNRR per il PNRR. La maggioranza apre a modifiche, però perché il progetto, secondo fratelli d'Italia, era stato pensato quando Mattele Viglia e PNRR passavano molto meno. Alcune con tutta spesa, ha avuto difficoltà un po' di essere realmente spesa. E' nato una verifica del generatore, mi intendo di prenderlo fuori sotto il sistema di acqua. Sì. 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 Sì.